E allora termina la gara, la Roma sbanca Empoli 2 a 1, una bella stretta de culo, più di qualcuna anzi, più varie strette de culo questa sera e bisogna essere onesti, se l'Empoli avesse raggiunto il pareggio probabilmente non avrebbe rubato nulla, ha preso due pali, anche noi abbiamo preso l'ennesimo palo con palo di bala, un fenomeno, un autentico fenomeno, un extraterrestre, io manco lo nominerei come migliori in campo perché non stiamo a parlare di un calciatore, è proprio un alieno, per me il migliori in campo stasera è Roger Ribagnes che invece è un calciatore per cui lo possiamo mettere chiaramente tra i migliori in campo parlando dei calciatori, di bala è un altro pianeta, un'altra storia, spesso brancola nel buio nel senso che spesso predica nel deserto, ha fatto un gol clamoroso, ma è clamoroso voglio dire, è clamoroso, allora quello è un gol clamoroso per un giocatore normale, che dici cazzo ha fatto un gol clamoroso, per lui è la normalità, l'assist che ha fatto per il gol di Ebram è per lui è la normalità, fa le cose con talmente una semplicità proprio come se fosse normale, ma noi dai tempi di Francesco Totti non siamo più abituati a vedere questo, per noi non è normale, per noi è afrodisiaco tutto questo insomma chiaramente va detto che nonostante le difficoltà, nonostante che comunque la Roma ha rischiato più volte di subire il pareggio, anzi, anzi, ha rischiato anche danno a sotto perché c'è stata quell'azione di Satriano che si è trovato da solo, ha tirato di punta e la palla è uscita di poco così, è lì veramente ho rivisto i fantasmi, però va anche detto che la Roma ovviamente ci vuole poco rispetto alle precedenti esibizioni del merda con Udinese e Ludo Goretz però va detto che è una Roma sicuramente un po' più brillante fisicamente, è una Roma dove ho visto anche i calciatori muoversi senza palla, che non avevo visto nelle precedenti esibizioni, anche in quelle vinte tutti volevano la palla sul piede, è una Roma che chiaramente ancora gli manca tanto, ancora gli manca tanto, ancora ci stanno calciatori che sono fuori dal contesto come Temi Abram che sicuramente ha fatto una prestazione di sostanza tornando dietro al centrocampo, difendendo palla, allargando il gioco, prendendo pallo, ma a me mi serve il centravanti, quello che si fa a vedere, quello che la butta dentro, cioè per ditte Belotti è entrato, ha giocato due o tre minuti e ha avuto una bella palla, se l'ha nata a guadagnare da solo con un contrasto, ha fatto un bel tiro, ma Vicario che è veramente un signor portiere, veramente un signor portiere ha detto di no, cioè è stata anche l'occasione di bocca, cioè anche la Roma ha avuto le sue occasioni per cavità, però chiaramente tu sei la Roma, quella è l'Empoli, sono due pesi specifici diversi e te non puoi subire così, perché io veramente questa sera mi sarò cagato addosso almeno 4-5 volte, però sono contento, chiaramente queste sono vittorie che fanno morale, fanno morale perché comunque ragazzi non è facile per nessuno Anna Empoli che vince, come non è facile batte il Lecce, come non è facile batte il Verona, come non è facile batte l'Udinese, l'Udinese sta a fare un campionato strepitoso, per cui questo rivaluta anche la sconfitta, è arrivata la sconfitta, chiaramente non c'è Stan, l'Udinese è più a 4 gol, però l'Udinese in questo momento sta a cazzo dritto, per cui che devi fa' è così, comunque è una vittoria che sicuramente fa bene la classifica, Pellegrini si è mangiato un calcio di rigore, chiaramente io quando prendono il palo per me è un eccesso di precisione, non vado a gettare la croce addosso a un calciatore che si mangia un rigore prendendo il palo, assolutamente, anzi mi sembra che comunque anche lui si è battuto, ha giocato sicuramente una partita leggermente superiore rispetto anche lui alle precedenti esibizioni non all'altezza, e piano piano, ah aspetta, mi stava a dimenticare Celic, Celic voglio dire, tranne quella defaianza a livello difensivo, dove lui comunque secondo me è molto più bravo a offendere, ma io credo che voglio dire, la differenza con Kasdorp sia sotto gli occhi di tutti, questo c'è un piedino educato, che comunque tesa a mettere una palla a mezzo degna di questo nome, e quindi credo che sia lui ormai il titolare. Spinazzola, sì anche lui leggermente in crescita, punta l'uomo, lo salta, ma poi quando devi mettere una palla a mezzo è nottefonna insomma. E che dire, i due di centrocampo, e beh sì forse quello è l'unico neo insomma negativo, anche lì una partita sì si sono battuti come leoni per cavità, però lì in mezzo serve un po' di fosforo, un po' di geometria, che sicuramente non c'hanno né Matici né Cristante, sono due doppioni, lo sa anche Murigno, e speriamo dai, speriamo anche nel rientro del Zaniolo quanto prima, perché comunque serve per dare profondità, e niente, sono contento, dai sono contento, vado a dormire tranquillo, forza Roma, dai!